andiamo se no mi scappa via andale vai andiamo 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 Conviene fare il sasso Leo, conviene fare quello in mezzo secondo me, quelli lì sono vicini Eh vedi? Quello in mezzo e basta, l'altra volta cosa ho fatto lì? Perché lì è vicino, scivoli giù cazzo Eh figaro, sembra che tengono di più dell'altra volta Sennò di lì sotto sta di fuori, da dove siamo scesi Eh vedi? Vedi la cazzata? Bravo, vedi? Non che qua è molto meglio eh, anzi Anzi Non ce l'ha un po' di là ancora Eh vedi, è una tante, quasi dritta Vedi là sono rimasto intrappolato l'altra volta Eh se scendi ti frega Fatto bene lui a stare alto Bravo Ah anche questo lo puoi fare Allora devi stare tutto sul sasso perché se vai in mezzo non vai su più Il алbetto Molto i peeti Asi Se sei ervesce ori Salto murderedo O O o oo o Ori Asi un Ori più o me l'avete lasciato con due vertigo a casa a casa a casa che ci riposiamo dopo partiamo a fare il secondo round dopo facciamo il secondo round è tutto piatto tutto piatto è tutto piatto è tutto piatto è tutto piatto è tutto piatto